Non mi pare bilanciato come bamba Mi faccio cesare male, ma guarda per 50 secondi non ti può prendere proprio il kill Let's go, ho fatto di nuovo 20 La mano di Vecna Dammi la mano Oh raga, sono la persona più fortunata A rollare 20 Vorrei sapere ogni quanto si resetano, perché so che si resetano Ancora nessuno inceso Ops Che fa quella mano? Se entro fastvoltando in un locker divento la draga No, su dindy faccio sempre tiri di merda di solito Tranne se sono dungeon master Se sono dungeon master il 20 mi esce spesso E fun fact, devo spesso abbassarlo perché non voglio uccidere i miei player Allora, saboteur attivo questo uncino con saboteur No, il mio hit è gratis Comunque è anche bello da affrontare Il glitch a me sembra A me piace affrontarlo Scusatevi potete prendervi voi Il chase ragazzuoli Non lo voglio io Ok sta cessando l'altro perfetto Ho fatto niente per caricare comparsa Comunque ho comparsa ogni 20 secondi E' strong bello forte Ma dove sta andando quello E' fuori Si sta prendendo Ogni pallet in testa questo Hide me Che è che l'ha detto Dai puoi andare a terra in un punto Tipo in un angolo di mappa Non è venuto qua Speravo che venissi in questo C'è C'è un sacco di casino Ma hanno alzato il rumore che fa Ace Ora l'impressione Ci sono anche a curarvi boys Ora però curate anche me Lì c'è un oggetto magico Tra l'altro che non hanno raccolto Mamma mia Ah Sarebbe stato bello Fosse stata un pochettino più lunga La musica Però Ci sta che sarebbe stato inutile poi Sì però Vabbè a sto punto Quasi quasi sgancio Ok dov'è Eccolo qua Eccolo qua Forza forza Vada a terra Vada a terra signore Oh Attenzione Marilyn Monroe E' proprio lei E' proprio Marilyn Monroe Beh io voglio solo sabotare Ma ne frega un cazzo del resto Sembra di essere su sott Perfetto Che palle Potevi morirci Cazzo Ok non viene su Cosa sono i moti No è un perk Nico Dai devi morirci Su Che palle questi che fanno i chase da Da pro player Che durano 600 ore E io sono qui a non fare un caff Ok io sono qui a non fare un caff Tra me che prende il memo lit Dov'è un locker Non ci arrivo Forza si Coglione Quanto è broken sta cosa raga Quanto cazzo è broken sta cosa raga Quanto cazzo è broken sta cosa comunque della mano E' vero che ti ferisce Però Parisci Comunque Vecna si è abbastanza un M1 Però ha un buon tutto secondo me Un po' di mobility Ha tante cose anche se non eccelle Non eccelle in tante cose Ma ne fa tante Grafic Fergler In che senso sparisce Hai presente il potere della draga Wilde Non hai visto dove sono entrato E dove sono uscito Sono entrato nel blocker Dalla parte opposta della mappa E sono uscito da questo locker qua Ne fa tante in modo mediocre Esatto si Però ha un kit abbastanza ampio Capito Però perdi uno stato di salute Wild per farlo anche C'è da dire Dai un altro bel 20 Così mi prendo anche l'occhio di Vecna Niente Ok quando fanno Quando fai Gli spettri Corro un po' più veloce Tra l'altro vedete che questo si è richiuso Aspetta ma posso rifarlo all'infinito? Ah Posso farlo all'infinito Certo che se vedi gli scrini medievali Su Raccoon City Vabbè allora Che Dai su Puoi morire signor Coins Voglio solo provare a vedere La toolbox Con comparsa Oh Minchia è istantaneo Minchia sei istantaneo La toolbox raga Ma dove è andato però È andato basement Usti Basement non me l'aspettavo Tra l'altro Fun fact Se riesco a scendere nel basement Non ferito Poi posso usare Il locker Per andarmene Cioè Posso anche baitarlo A venire giù Perché se io adesso sto qua Aspetto solo che scenda Lo posso baitare nel venire qui Niente non mi vedo Posso provare a portarlo giù però A me sembra più Comparsa A me sembra più di 150 No secondo me no Non ce la fa Però è istantaneo La toolbox è veramente strong La toolbox è veramente tanto forte Attualmente Usa il locker Dopo il locker Ah non sta Sta poi effettivamente Cerchendo di portare fuori C'è il gancio Dai vorrei Vieni con me Ma vieni con me Vieni qua Oddio lag To the sky Assolutamente Ehi salve Mi scusi Mi sta tenendo la porta aperta Mi scusi signore Ma credo gentile Per tenermi la porta aperta No raga è troppo bella La mano di Vecna La mano di Vecna È veramente bella Meno male che questi perk Ci sono solo quando affronti Ma non è un perk È un oggetto Non è un perk Lennox Capito È un oggetto Che puoi trovare È una possibilità su 20 Eh Però C'è un cazzo di perk Però cazzo È veramente figo ragazzi L'hanno di Vecna Sì per i serve È vero Sì Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti.